A voi tutti cari amici di Meteo Giuliacci, ben ritrovati da Giuseppe De Vitti. Si è iniziata una nuova settimana con temperature abbastanza elevate ma senza eccessi, però attenzione, giugno farà dimenticare il mese di maggio decisamente più fresco e molto piovoso. Perché attenzione, è prevista fra qualche giorno una nuova zampata africana molto intensa. Ne riparliamo, non voglio dire altro perché comunque è abbastanza intensa e va seguita. Vedremo davvero se verrà confermata o meno. Intanto poche novità per la giornata di martedì. Bel tempo al mattino, quindi tanto sole con temperature che aumenteranno velocemente. Bel tempo in serata, si vedranno le stelle, si vedrà la luna. E però su zone alpine, prealpine, ma anche, vedete, lungo la dorsale appenninica, centro-meridionale, qualche acquazzone rovescio di pioggia, isolato temporale. Però appunto nelle ore centrali del giorno. Al mattino e in serata, tempo tranquillo. Per il momento è tutto, noi ci riaggiorniamo. Vedremo appunto l'evoluzione dell'ondata di calore, intensa, prevista fra qualche giorno. Arrivederci.